Ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto. Ora voi vi starete chiedendo, per che cosa? Come? In realtà sono serio, questo video è serio. Come ogni bravo youtuber, ogni tanto la mattina mi sveglio, vado nella dashboard del canale per guardare come vanno i video, studiarli e capire quindi cosa fare e come migliorarmi, capire dove pecco. Giravo qua per le analytics, guardavo i video che andavano meglio, come stava andando tutto, ci sta, ok, ma non è questo il problema. Il problema è una sezione specifica. Se andiamo qua in pubblico, qua, pubblico, è dolorosa, è dolorosa. Il 56, più della metà delle persone che mi seguono non sono iscritte, cioè nel senso la gente mi segue anche costantemente, ma non è iscritta, ma io mi chiedo perché non solo aiuti me e mi aiuti a crescere, ma aiuti anche te stesso perché vieni costantemente aggiornato, quindi è un doppio vantaggio. Perché non iscriversi, ragazzi? La gente ogni tanto mi iscrive anche sotto. Meriti più visualizzazioni, meriti più iscritti ed è uno dei commenti che mi dà più carica per andare avanti perché vedo che c'è gente che mi supporta e mi sostiene. Però ragazzi, meriti più iscritti, ma cazzo, più della metà della gente che mi segue non è iscritta, basterebbe che le persone che non sono iscritte si iscrivessero e io ragazzi avrei già so... cioè anche se ora voi, voi che non siete iscritti, ora cliccate la... cliccate facendo lì in basso e attivate la campanellina, avrei già superato i mille iscritti, ma già da un bel po' ragazzi, avrei già superato i mille iscritti? E cazzo, ma puttana, cioè salgo di 25 iscritti al mese se tutti quegli iscritti, se anche solo un quarto degli iscritti si iscrivesse, sarei a quasi mille iscritti ragazzi, veramente, ogni singola persona di voi con un'iscrizione farebbe la differenza se voi vi iscrivete, non solo vi aiutate a crescere, mi date quindi più possibilità di investire un termine proprio monetario sulle attrezzature e quindi migliorare la qualità dei video venite a giornate su tutti i video, poi oh, non vi piace un video, lo scartate, però intanto venite a giornate su tutti i video ragazzi e intanto mi aiutate a crescere, che è tanta roba ho bisogno del vostro aiuto per questo, cioè il vostro aiuto consiste in un click e se volete evitarmi ancora di più ragazzi, è molto semplice, prendete i video che vi piacciono di più proprio, cioè non tutti, ma quelli che vi piacciono di più, i due o tre che vi piacciono di più e condivideteli ai vostri amici, anche a un solo vostro amico già mi aiutate tantissimo, questo perché, si generalizziamo due casi il vostro amico mi conosce, è anche iscritto mi date una visualizzazione in più, un like in più, che fa sempre comodo a youtube intendo nel caso non è iscritto ancora meglio mi conosce, magari gli piacciono i miei video e si iscrive e magari anche lui condivida di un altro suo amico e così parte una catena con la quale gli iscritti si aumentano esponenzialmente quindi ragazzi, da un vostro semplice condividere un video il numero di iscritti potrebbe aumentare in modo esponenziale con un semplice click voi potete dare inizio ad una catena di iscrizioni esponenziale ragazzi, veramente, avete un potere nelle vostre mani incredibile se ogni persona che sta guardando questo video adesso si iscrive se non è iscritta e condivide i video che gli piacciono di più anche solo un video che gli piace di più ragazzi, mi date un aiuto che è incredibile incredibile e col vostro aiuto potremo arrivare insieme a salire sempre di più e arrivare a mille iscritti e salire sempre di più che ragazzi, veramente, è importante ed è fondamentale per poter salire su youtube senza il vostro aiuto non posso fare niente io ragazzi è questo di cui ho bisogno il vostro aiuto di iscrivervi se non siete iscritti perché cazzo, il secondo 6% di visualizzazione è una roba, cioè proprio e anche le condivisioni poi diventa una roba incredibile ragazzi mi date un aiuto clamoroso anche se solo uno di voi lo facesse un aiuto clamoroso condividete questo video alle persone che mi seguono vi dico già grazie nel caso lo faceste o anche nel caso non lo faceste anche solo per la visualizzazione e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti